ciao benvenuti a questo video in cui andremo a introdurre la luna nuova in sagittario con un eclissi solare totale il 4 dicembre 2021 eclissi che avviene e luna nuova che avviene per la congiunzione appunto di sole luna durante la luna nuova come sappiamo a 12 gradi e 21 minuti del segno del sagittario ed è l'ultima eclissi solare nel segno del sagittario fino al 2029 e va a completare diciamo quelle che sono le energie emanate dal nodo lunare sud in sagittario uno degli aspetti che sono centrali in questo di questa eclissi e di questa luna nuova è la sua congiunzione con il cosiddetto grande attrattore che a 14 gradi due minuti del segno del sagittario il quale lavora congiuntamente a mercurio in sagittario a 15 gradi quindi anche mercurio si trova praticamente quasi congiunto in questa occasione al cosiddetto grande attrattore di cui poi parleremo approfondiremo diciamo di quello che di che cosa si tratta in termini fisici astronomici durante durante questo video ma soprattutto in termini archetipici quello che è la sua valenza la sua carica energetica come simbolo e diciamo che la tematica centrale di questa eclissi è il lasciare andare le vecchie programmazioni subconsce e quindi diciamo immaginiamo il subconscio agire come un raccordo tra inconscio e cosciente quindi in qualche modo lungo questo ponte avviene una pulizia su entrambi i fronti bidirezionale che parte però con una radice nell'inconscio quindi con una radice molto profonda e che viene a completare quello che è un lavoro che sicuramente ha avuto luogo in maniera determinante negli ultimi cinque anni e in particolare dal 2019 a questa parte c'è stata diciamo una sorta a più livelli di intensità di presa di coscienza di quello che poteva essere un lavoro sommerso che avveniva nelle profondità e quindi siamo a questa ultima eclissi del 2021 e diciamo appunto per altri nove anni non avremo altre eclissi nel segno del sagittario quindi in questo come dire archetipo così connesso con la costruzione della nuova della cosiddetta nuova terra inoltrandoci diciamo nell'energia dell'acquario della cosiddetta era dell'acquario naturalmente che vogliamo accogliere nei suoi lati luminosi quindi questo lasciare andare della vecchia riprogrammazione di quelli che sono sistemi di credenza ormai scaduti obsoleti anacronistici rispetto alla verità attuale degli individui e un una risonanza che si stabilisce con una verità superiore della quale diciamo che sebbene metafisica entra sempre più concretamente nella nostra realtà fisica e cominciamo diciamo a vari livelli di intensità e di coscienza a poterla percepire quasi paradossalmente fisicamente nel senso che ne vediamo l'azione sulla materia e in qualche modo abbiamo questa profonda intuizione che deriva dalla nostra connessione con le dimensioni superiori e con le dimensioni altre da quella fisica riusciamo a vedere il suo effetto di plasmatore come vengono modellate le energie come entrano secondo queste forme nella e prendono una forma materiale e siamo sicuramente alla luce di quelle che possono essere le esperienze le vicende trascorse negli ultimi quantomeno cinque anni per non risalire ancora più indietro quelli che potevano essere diciamo i meccanismi di innesco di percorsi che ci hanno portato a dover sciogliere dei nodi risolvere dei contratti carmici a prendere atto di lezioni che ci siamo trovati ad apprendere ecco è un momento questo per chiederci e per farsi domande intorno a quelle aree della nostra vita in cui sperimentiamo tuttora insoddisfazione dove non ci sentiamo appagati pieni dove sentiamo percepiamo ancora il vuoto e quelle che sono diciamo le nostre i nostri attaccamenti quelle che sono le nostre ossessioni uscendo fuori da questa luna diciamo dalla lo scorsa luna piena in in toro e sulla scia di una evoluzione di tipo scorpionico delle nostre lunazioni interiori e quelli che sono i nostri sistemi di valore soprattutto in relazione ai sistemi di credenza quello che crediamo sia possibile o meno per noi quello che siamo capaci quello che diventa possibile per noi manifestare e c'è diciamo in questa configurazione planetaria una energia di chiarificazione rispetto a quello che ecco funziona per noi quello che calza la nostra verità attuale e quello che invece sentiamo di dover rilasciare che vogliamo eclissare solarmente dalla nostra dalla nostra esistenza e questa energia quindi è qui per diciamo nel complesso di quella della configurazione planetaria a chiederci di essere chiari su che cosa non vogliamo portare avanti con noi che cosa vogliamo di che cosa vogliamo liberarci quelli che sono diciamo che cosa su di noi attualmente esercita una pressione una pressione tuttavia insostenibile o in qualche modo pressione che ci fa sentire compressi che è sempre meglio che depressi e quindi essendo un tipo di energia che ci muove verso un potenziale cosmico più elevato siamo al punto in cui la chiarezza ci permette di reclamare e di abbracciare il futuro un futuro libero appunto da quelli che possono essere stati i pesi che ci siamo in qualche modo caricati e portati dietro più o meno coscientemente nel corso di questa incarnazione che derivano possibilmente anche dalle incarnazioni precedenti quindi quello che è il potenziale libera di liberazione della nostra sostanza animica e abbiamo necessità di ricaricarci di fare il spazio per avere per poter fare entrare la nuova e nuove energie nel nostro campo energetico e a tra diciamo tra novembre e dicembre 2021 ci viene mostrato quello che quelle che sono le aree della nostra vita dove è necessario un completamento dove è necessaria una risoluzione dove è necessario porre una conclusione ci vengono mostrate le aree della nostra vita in cui non c'è non c'è più spazio per fruttificare nel senso che sono in qualche modo completate esaurite e le energie che vengono e derivano da questa da questo completamento possano essere trasformate in nuovo combustibile in nuove risorse per terre più fertili rispetto a quello che è il presente a quella che è la verità presente del nostro sistema complessivo della nostra coscienza e della nostra vita pratica e quotidiana quindi c'è questa energia di scelte di vita radicali se vogliamo in questo in questo frangente scelte di vita che vanno a plasmare e modellare istante per istante le nostre giornate nella nella prospettiva di una visione futura di un futuro che percepiamo che intuiamo che desideriamo e quindi le nostre azioni quotidiane sono rivolte a questo proposito più alto a questa visione più alta in questo momento la mia visione è su un pettirosso che ha raccolto una briciola dal tavolino fuori che io lascio non per sostituirmi al creatore perché il quale provvede per gli uccellini del cielo e per tutti noi ma come una sorta di diciamo collaborazione e il pettirosso tra l'altro oggetto di studio rispetto alla bussola elettromagnetica dei sistemi di orientamento quello che è il senso quantistico degli uccelli vede proprio i pettirossi come protagonisti degli studi quindi c'è anche un suggerimento in questa sincronicità rispetto alla direzionalità suggerimento che ci è stato dato anche nei mesi precedenti ma che viene a capo e viene a capo proprio nel segno del sagittario segno che archetipicamente rappresenta non solo il centauro ma anche il cacciatore e l'arciere quindi ha in sé contiene in sé l'idea anche del fuoco della visione della visione di un bersaglio questo bersaglio che viene colto da una freccia scoccata nella giusta perfetta direzione così questa metafora dell'arciere della freccia e dell'arco e del bersaglio che vede questi quattro elementi uniti nella creazione di una quinta entità che diviene la sintesi perfetta di intenzione e sua realizzazione l'energia che sta entrando supporterà la direzione che è allineata con la nostra verità e quella che potrebbe essere la sfida rispetto appunto alle configurazioni planetari di cui magari entriamo più approfonditamente ecco quella che potrebbe essere diciamo quello che ci viene richiesto è il fattore fede ovvero l'energia in ingresso viene a supportare la direzione che è allineata con la nostra verità quindi con la nostra intenzione rispetto a un bersaglio con la nostra aspirazione in movimento dinamico verso il futuro bersaglio e può essere un processo che è lungi dall'essere logico o pratico ovvero può crearsi una sorta di contraddittorietà a livello percettivo e quindi attivo tra la direzione percepita come nostra verità e quella che è la sua la dinamica della sua messa in atto una diciamo è credere profondamente nel grande mistero nell'ignoto, nello sconosciuto, nell'imperscrutabile energia che è amplificata dall'archetipo del grande attrattore che sfugge alla visione che è intuito, percepito nello spazio astronomico ma che è fuori dell'orizzonte visivo non solo ovviamente il nostro ma anche quello tecnico, astronomico e quindi ci viene chiesta una capacità di fede e di fiducia nella nostra intuizione in quello che sentiamo e nella nostra percezione che è senza precedenti e che ci rende simili appunto a quei petti rossi migratori ed è sicuramente sfugge alla nostra comprensione puramente del piano mentale ma diciamo diventa parte di una comprensione più ampia in cui il piano mentale e il piano emozionale sono in perfetta sinergia come dice il vecchio detto il cuore conosce la mente interpreta il cuore non è semplicemente lo scrigno delle emozioni, delle passioni il cuore è il motore congiunto dei piani mentali ed emozionali ne è la confluenza e la sorgente e la radice e quindi siamo supportati nell'andare avanti credendo in noi stessi e in quella che è la nostra chiamata o che sentiamo essere la nostra chiamata ed è un tipo di comunicazione che è appunto puramente energetica ecco quella sorta di sfida che ci viene richiesta non è una chiamata per la quale riceviamo una lettera fisica riceviamo una lettera metafisica una chiamata che avviene sulle dimensioni più sottili del nostro essere un tutto e quindi non è mentale, non è cerebrale può apparire illogico, poco pratico perché è un'energia che ci parla e che ci spinge avanti e che ci chiede di credere che se sentiamo una determinata pulsione verso questo moto a luogo che sostiene tutto questo processo se sentiamo questa pulsione ecco che c'è una ragione per cui la sentiamo sebbene nel presente sfugga ma non mancano le sincronicità e non mancano i segni e i segnali da parte delle dimensioni superiori rispetto alla correttezza della nostra navigazione del nostro sistema di navigazione per cui ecco che anche l'aprire gli occhi e le orecchie che ha occhi per vedere vede orecchie per intendere intenda, ha i segnali che giungono e quindi là il riconoscimento che è un riconoscimento tacito rispetto al bociare mentale ed è un riconoscimento del cuore che include in sé anche il senso di riconoscenza intesa anche come gratitudine quindi credere in questo in questo grande sconosciuto planetariamente, astronomicamente o astrologicamente secondo l'astrologia transpersonale potremmo dire credere in questo in questo contesto in questa circostanza contingente nel grande attrattore che diviene archetipo della sorgente archetipo del creatore è il grande mistero e questo ci viene mi viene accennato il 13 novembre tant'è che rilasciai un video sul portale 999 e quindi stiamo siamo su un cammino di fiducia rispetto a qualcosa che non neanche sappiamo se ci sarà mostrato ma neanche ci interessa se ci sarà mostrato ovvero c'è un fattore di fiducia incondizionale che diviene motore di una dinamica evolutiva a livello individuale e a livello collettivo a livello di essere umano individuale e a livello di specie umana e la fede la fiducia sorpassano e surclassano la mente logica ed è come dire fai un passo e il sentiero appare fai un altro passo e un altro mattone dove il sentiero dorato appare ed è il primo passo un passo nel buio appare un ciotolo d'oro sul percorso il secondo passo è ancora un passo nel buio nel vuoto nello sconosciuto e appare un altro ciotolo un altro san pietrino dorato sul nostro cammino c'è una enorme intensa spinta cosmica con questa eclissi solare e luna nuova dunque in sagittario congiunta al grande attrattore c'è l'opportunità di dissolvere energie karmiche che ci hanno rallentato frenato bloccato reso a tratti stagnanti per lungo tempo e rimuoverle in maniera profonda dai nostri campi energetici dalla nostra aura dai nostri chakras e essere sostituite ovvero entrare nella macchina trasformatrice nella ruota che trasforma ed essere sostituite da più alta vibrazione più alte frequenze di fiducia di supporto l'energia dei chakras queste ruote di luce che chakras letteralmente etimologicamente significa ruota di luce ed è interessante che la radice della parola chakra sanscrito sia la stessa della parola chai vita ebraica queste ruote che girano e sono in questo loro girare la forza attraverso la forza centrifuga le energie completate le energie karmiche vanno a dissolversi ad essere sparate diciamo fuori dal nostro campo energetico nell'abbraccio elettromagnetico del grande attrattore questa energia diciamo gigantica densa che le rimuove dalla nostra aura come se queste energie fossero metalli pesanti e il grande attrattore un enorme magnete e questo ci alleggerisce e ci libera da quello che era la palla al piede ed era come essere stati buttati in mare con un blocco di cemento attaccato alle caviglie che ci portava a fondo che ci impediva di fluire giove rientra nei pesci dove era anche nell'eclissi lunare in sagittario lo scorso maggio e le eclissi sono dei diciamo sostanziali punti di cambiamento e di trasformazione sono delle transizioni di portata maggiore sono delle lune nuove in una luna nuova in questo caso supercarica che è totalmente e l'energia diciamo di nuovo inizio e quindi di completamenti di conclusioni e nuovi inizi che la luna nuova porta con sé in questo caso è amplificata a una ennesima potenza una potenza indefinibile immisurabile smisurata quindi le nuove intenzioni diventa come dire no il chiarire la nostra lavagna elettromagnetica e appuntarvi le nuove intenzioni diventa quasi un eufemismo rispetto a quello che è il naturale processo evolutivo che dal quale sbocciano le nuove intenzioni come ispirazioni e aspirazioni come idee come fiori in un prato la nonna casa quella del sagittario governata dal pianeta giove ha in sé l'energia dei nuovi inizi ha in sé l'energia del pioniere dell'avventuriero del viaggio del volo dell'espansione dei luoghi sconosciuti delle appunto esplorazioni della crescita della filosofia della spiritualità della maestria della legge delle verità superiori del sé superiore è la casa del sé superiore e in questo in questi scorsi 18 mesi quasi trascorsi completamente quando poi a gennaio i nodi lunari passeranno sull'asse toro scorpione ecco che il maestro sagittario si trovava si trova ancora nel nodo sud e quindi alla nostra portata e il discepolo gemelli in questo caso si trova nel nodo nord e quindi c'è una sorta di inversione di ruolo al discepolo è chiesto di fare un salto di livello un salto quantico di essere investito come il cavaliere viene investito dall'energia che discende regalmente dall'alto attraverso la spada spada di orione in questo contesto intergalattico spada di arco di connessione con la nostra coscienza cosmica antacarana di connessione tra il nostro campo aurico e il campo divino e quindi giovane i pesci ci porta anche a cercare la guida del spirituale e quindi di elevare come dire la nostra ricerca dell'insegnante spirituale a un livello più alto e quindi ritrovarlo dentro di noi nascosto tra gli specchi fumanti delle illusioni di questo della materia è nascosto nella nebbia delle nostre precedenti scale di valori dei precedenti sistemi di credenza generati come dire malgrado noi e assorbiti il nostro malgrado e quindi il maestro che andiamo a ritrovare che andiamo a ripescare in mezzo alle acque putride e alle acque sporche tossiche è il nostro sé superiore è la nostra coscienza superiore tutti i livelli della sua manifestazione fino alla nostra coscienza cristica che diventi unitaria a livello collettivo e nuovi cicli nuovi iter vengono determinati nuove forme mentali vengono c'è una ristrutturazione la destrutturazione operata dal pianeta plutone in questo suo essere in capricorno congiuntamente alle energie di saturno e di urano saturno in acquario e urano nel toro la irradere al suolo la falsa credenza per ricostruire la città di eldorado la città della luce per ricostruire una città che appare che è sebbene non è vi lascio come suggerimento quello di andare a vedere quella che è la città dimensionale cercare su google rispetto a città dimensionali in argentina nell'area di cordova c'è tra le montagne anche diciamo una comunità anche se ecco il la la ciudad quella che negli diciamo gli indios della rocas e delle impervie terre di quella zona dell'argentina ritengono esistere è una città che non ha una topografia che non è topograficamente rilevabile perché è in un altra come dire in un altro strato della rete quantica e quindi è in una dimensione intradimensionale giove nei pesci è inquadrato ai nodi di sagittario gemelli e quindi viene a portare aggiustamenti rispetto alle tematiche che ruotano intorno agli archetipi del segno dei gemelli del sagittario e quindi alle comunicazioni ai al movimento ai viaggi alla conoscenza superiore al ai sistemi ideologici e filosofici e questa eclissi sarà centrata sulla libertà nella costruzione di maggiore libertà di e nella ideazione e nella analisi del dei parametri per cui riuscire delle coordinate per cui avere maggiore libertà uscire da l'impantanamento di cui si è parlato recentemente di avere maggiore autocoscienza maggiore conoscenza di sé e quindi poter e quindi poter sradicare il falso da noi ovvero sistemi di credenza che erano appiccicati a noi come dei passiti l'aria e il fuoco quindi l'aria e il nodo nord soffia in questo caso sul nodo sud e alimenta questa energia di fuoco alchemico primordiale e quindi il magico mitico e pratico forno atanor il forno del alchemico viene edificato e messo a nostra disposizione per sperimentare e quindi per avviare processi anche a noi sconosciuti che siano però basati sulla radice di verità e non su quella per esempio della vanità dell'ego vero del dello scienziato che vuole raggiungere diciamo gli allori della scoperta ma il pioniere che lo fa per amore del dell'esplorazione della scoperta stessa e quindi non per l'amore del dell'ego e ritornando diciamo anche a quelli che sono le energie archetipiche coinvolte nella congiunzione dell'eclissi solare in sagittario con il grande attrattore ecco che quello che era un suggerimento che mi era arrivato diciamo per vie traverse diventa in qualche modo importante in questo e quindi coinvolto simbolicamente in questa in questa lunazione una lunazione una lunazione di manifestazioni soprannaturali l'energia ad ariana o quella della stella diciamo ad ar che appartiene alla costellazione del centauro una delle costellazioni dei cluster quindi degli ammassi di stelle che fanno parte del grande trattore l'energia ad ariana che è un'energia basata sull'amore divino sul senso di unità sull'incondizionalità più assoluta se volete approfondire ad ar semestellare ad ariano potete cercare aprire questa porta di approfondimento e ho questa intenzione di fare un video sui semestellari da un punto di vista simbolico archetipico e il grande attrattore che cos'è per arrivare diciamo a quello che è il fulcro energetico e archetipico e simbolico di questa energia solare di questa eclissi solare il grande attrattore è un'anomalia gravitazionale che in uno spazio intergalattico e questa anomalia che è in un centro diciamo in un punto gravitazionale centrale apparente che è il detto super cluster super ammasso di stelle laniachea laniachea che è hawaiano radice a me molto cara per quelle che sono diciamo i percorsi etimologici che dalle lingue semitiche mi hanno portato molto vicina alle lingue alle radici diciamo dalle lingue semitiche dal sanscrito mi hanno portato ad interessarmi anche alle radici dei linguaggi delle aree del pacifico in particolare quello delle isole hawaii lani significa paradiso o superno cioè diciamo paradiso ma anche l'aria celeste superna iperion potremmo anche dire e anchea che è spazio immisurabile smisurato questo nome viene dato a questo ammasso di stelle in onore dei navigatori polinesiani che usavano la conoscenza dei cieli per del dei cieli intesi in senso nel senso più spirituale quindi non solo in senso astronomico per navigare l'oceano pacifico e questa questa diciamo anomalia quello che è possibile osservare il grande attrattore è una localizzata concentrazione di massa che è milioni di volte più massiccia della nostra via lattea della nostra casa quindi noi siamo diciamo nel quartiere via lattea o nella frazione via lattea del municipio grande attrattore e che è il continente in cui siamo inseriti da un punto di vista celeste e è parzialmente diciamo oscurato dalla dalla nostra via lattea quindi è difficile da osservare direttamente e questo grande attrattore è collocato nella direzione del centauro proprio quindi diciamo sta muovendosi verso la cosiddetto il cosiddetto super ammasso di stelle scepli nella costellazione del centauro che è la più grande concentrazione di galassie nella nostro vicino universo e che forma un una unità di interazione gravitazionale gravitazionale un'unità interattiva gravitazionalmente interattiva che al posto di espandersi con l'universo si contrae e si come dire si amalgama con se stessa nel cosiddetto grande attrattore che sarebbe il cuore della vela della nave argo appunto c'è la casa della nostra via lattea che è 10 alla 17 masse solari e il super cluster ovvero l'ammasso stellare della vergine quello dell'idra centauro il muro di antlia o anche idra puramente ammasso stellare dell'ammasso stellare dell'ammasso dell'ammasso del pavone indiano pavo hindus il l'ammasso meridionale che comprende la fornace la nuvola di dorado e eridano il fiume e nel senso celeste e diciamo che appunto è il cuore gravitazionale di l'ania che ha il grande attrattore è il suo cuore gravitazionale ed è questo enorme buco nero che appunto è più largo del centro galattico anzi lo contiene in qualche modo ed è conosciuto proprio il centro galattico che è al cuore nel cuore della nostra via lattea quindi è il buco nero praticamente che nel cuore della nostra galassia e quindi se consideriamo la via lattea come la nostra casa natale quindi l'ania che ha di cui la nostra via lattea è parte può essere vista come la sua nazione quando parliamo di nazioni anche in senso biblico in questo processo di acquisizione di una coscienza galattica e cosmica potremmo anche riconsiderare diciamo rileggere in questa chiave alcuni passi biblici adesso ovviamente non voglio di andare a digredire diciamo perdonatemi la digressione insomma ecco l'ania che ha è una dei quattro massi stellari che sono situati insieme come un continente il grande attrattore è il buco nero che è la sorgente di quel continente il grande attrattore si trova appunto a 14 gradi due minuti del sagittario ed è un'enorme anomalia come detto che non è stato possibile da un punto di vista scientifico ancora definire propriamente ma quello che si è arrivato a comprendere è che il grande attrattore è la sorgente di questa intera sezione di universo nella quale siamo inclusi anche noi e che misura circa due bilioni di anni luce ed ha una attrazione gravitazionale talmente forte che attrae attira a sé le galassie circostanti incluso la nostra via lattea quindi siamo diciamo ci stiamo muovendo verso il grande attrattore e dall'astronomia si sa che abbiamo appreso che ogni buco nero nell'universo è la sorgente del suo contesto stellare quindi le stelle che sono intorno in qualche modo che a lui tornano sono da lui prodotte quindi è semina e raccoglie semina e raccoglie ciò che semina e quindi diciamo come sorgente del tutto il grande attrattore viene ad avvicinarsi a un archetipo che è quello di Dio del creatore e come sorgente del tutto di tutto ciò che è è creatore e allo stesso tempo distruttore ovvero semina e raccoglie e così come tutti i buchi neri hanno queste qualità ma nel caso del del grande attrattore è esponenziale e mentre attrae tutto ciò che ha intorno verso di sé allo stesso tempo manda fuori diciamo la più potente coscienza multidimensionale che possiamo immaginare o che non possiamo immaginare nella forma di sci e di flussi di luce che possono essere scaricate in senso di download attraverso il nostro chakra della corona e quindi c'è praticamente a livello del chakra superiore a quello della corona la sorta di connessione usb e a livello del chakra della corona scaricare la coscienza multidimensionale che proviene da questo grande attrattore nelle nostre anime e in ogni anima che ci metta la coscienza ovvero potremmo dire anche che sia abbastanza sveglia da riceverla ma il concetto di sveglio come del risvegliato in questo caso è un concetto di porre attenzione ovvero è in senso quantistico questo enorme gigante buco nero è un ologramma diciamo funge da ologramma della verità riflettendo frattalmente qualcosa di così ampio che le nostre menti umane che le nostre menti umane devono piegarsi in qualche modo per poterlo gestire da un punto di vista anche semplicemente intuitivo hanno bisogno di ridursi a uno stato di umiltà ovvero di costantemente piegarsi e permettere a se stesse di farsi piccole rispetto adesso e l'unica forma, l'unico modo di lavorare con il grande attrattore è di mantenere le nostre frequenze abbastanza elevate attraverso la nostra focalizzazione sulla sorgente e arrendendoci ad essa con un cuore aperto e anche poi c'è da dire che la materia di cui il grande attrattore è in qualche modo se non possiamo dire con certezza costituito è un tipo di energia oscura ma un tipo di energia oscura che differisce da quello che è l'energia oscura di cui il nostro universo per il 71% è composto è un'energia che potremmo avvicinare a cosiddetta materia esotica che è teoretica per i fisici abbiamo la materia oscura e abbiamo la materia esotica una materia di tipo teoretico, ipotetica ancora che permetterebbe il viaggio nel tempo permetterebbe l'alterazione, la deformazione del campo spazio-temporale e quindi quello che anche diciamo fa parte di questo grande attrattore è anche il flusso oscuro oltre che l'energia oscura che è una velocità teoretica di questo attrattore ed è associato proprio con il cosiddetto time warp ovvero la distorsione dello spazio in relazione al tempo secondo la quale persone o oggetti di un determinata linea temporale di un determinato periodo o timeline possono essere mossi o spostati a un altro e quindi questo ci riporta all'idea del viaggio nel tempo questo time warp è anche so teoretico è un'eccentricità nel progresso del tempo che permetterebbe un movimento avanti e indietro attraverso le ere tipo un pendolo o che permetterebbe il passaggio tra una linea del tempo e l'altra e quindi aprire dei portali delle linee del tempo e permetterci come non so se avete mai visto quel dipinto di Escher dove ci sono in queste strutture in queste architetture impossibili quei personaggini che salgono e scendono le scale ecco come salire e scendere queste scale come note no salire e scendere di scala e di nota e di ottava ma quando queste scale siano ecco l'asse temporale o l'asse spazio-tempo e permetterebbero anche che il tempo sia sospeso e quindi la sospensione del tempo il fermarsi dell'orologio questa dilatazione o contrazione del tempo che apre passaggi nello spazio fisico dovuti ai passaggi nel tempo fisico che passa dal non tempo inteso come accelerazione in un tempo indefinibile al vuoto del tempo all'eternità ed è un fenomeno in fisica che cambia il flusso del tempo appunto accelerandolo oppure rallentandolo e questo è stato comunque in qualche modo enunciato da Einstein nel 1905 in quella che fu la prima della cosiddetta teoria della relatività speciale che precede di un decennio quella che è la teoria della relatività in cui Einstein diciamo asserisce che la gravità è una proprietà della curvatura dello spazio-tempo e che è in qualche modo il tessuto connettivo nonché il tessuto inteso come tappeto come fabbri come stoffa come il tappeto che viene intessuto nel telaio spazio-tempo quando appunto anche un telaio è fatto dalla movimento di una spola tra due assi e come risultato tutto ciò che ha una massa secondo la teoria speciale della relatività potrebbe potenzialmente teoreticamente ipoteticamente deformare il tempo quindi più è la massa e maggiore è la deformazione e con masse che sono bilioni di volte più larghe del sole buchi neri come il nostro grande attrattore che hanno un peso che ecco è immisurabile possiamo immaginare quali tipo di potenziale da questo punto di vista del passaggio di linee del tempo possa esserci e se ci riferiamo diciamo a quelli che sono le valenze in frequenza Hertz e quindi alle valenze e la carica elettromagnetica del simbolo e la sua interazione col campo elettromagnetico del nostro cuore cervello nostro campo elettromagnetico neurofisiologico possiamo comprendere anche quale enorme potenziale archetipico venga scaricato attraverso questa congiunzione e quindi quale anche potenziale di elevazione di alterazione di frequenza venga a noi consegnato come strumento attraverso questa lunazione naturalmente per fare un esempio di comprensione immediata secondo la teoria della relatività speciale se si abita in cima alla vetta di una montagna si invecchia più velocemente che se si abita al mare anche se diciamo il processo di accelerazione dell'invecchiamento e quindi di accelerazione del tempo avviene a un livello che è totalmente impercettibile anche il sole e la terra si dilatano dilatano il tempo in proporzioni che sono scientificamente misurabili e praticamente diciamo tutto quello che ha una massa come già accennato dilata e ha la potenzialità di deformare le linee spazio-temporati in ogni caso questo questo discorso della deformazione del tempo questi questi concetti della deformazione del tempo vengono amplificati dal dalla coinvolgimento del grande attrattore in questa eclissi solare e punto diciamo di nascita e di non ritorno allo stesso tempo che porta a noi la benedizione di una connessione più profonda con quella che è la sorgente del tutto sempre ragionando per simboli e per archetipi e per concludere diciamo quella che può essere una parentesi sul viaggio nel tempo che avviene a livello astrale che molti di noi magari magari non molti di noi che non so diciamo definire quanti di noi possono aver sperimentato quelli che possono dei viaggi interdimensionali anche che possano avvenire in astrale in ogni caso i fisici considerano che il viaggio nel tempo basato sulla relatività generale non è possibile nell'universo reale ma ci sono due quantomeno alcune possibilità alcune opzioni una è quella del cosiddetto wormhole letteralmente il buco di verme un buco di verme cioè che è un ponte teoretico che unisce come dire i due i due assi sul quale la materia e la luce potrebbero passare che è creato proprio dalla curvatura dello spazio e assomiglia è come se un albero si crescesse si elevasse da questo tessuto da questa rete proprio reticolare da questo reticolato dello spazio tempo e al posto della chioma si aprisse come la cavità di un imbuto ecco come o la cavità che vediamo in un mulinello quando l'acqua vorticosamente scende verso un buco e attraverso quella cavità portarci in un in un reticolato parallelo per esempio e molti diciamo spiritualisti e fisici quantistici hanno sempre sostenuto che questo universo è solo un ologramma e che noi siamo diciamo stiamo vivendo in una matrix che è controllata dalla nostra coscienza unitaria e quindi ecco che siamo tutti co-creatori e che costruiamo la realtà insieme e che stiamo siamo tutti fili di uno stesso tappeto e come fili insieme ci intrecciamo per fare l'intero tappeto e quando quindi vibriamo più alti cambiamo la nostra realtà ma questo non significa che non siamo ancora parte di quel più grande tappeto e della stessa creazione quindi questo per dire per dire che siamo qui in questa barca tutti insieme quindi ecco anche l'importanza di una coscienza unitaria e l'importanza di comprendere che ognuno di noi è responsabile della creazione che vive che si vive e che il pianeta vive che l'umanità vive e il grande attrattore da un punto di vista simbolico è dove siamo diretti che è l'archetipo di Dio come detto creatore distruttore allo stesso tempo seminatore raccoglitore allo stesso tempo e come ogni buco nero ha questa proprietà il sole e la luna quindi a 12 gradi e 21 minuti del sagittario congiunti a mercurio a 15 gradi del sagittario abbiamo nuove linee del tempo nuove traiettorie nuove aree di crescita perché abbiamo come dire scusatemi che mi chiama il mio cagliolino e adesso lo ecco un attimo di carenza di affetto povere e ecco che nuove aree di crescita per quello che abbiamo siamo stati in grado anche di appunto concludere completare lasciarci alle spalle ora siamo c'è una sorta di non una sorta c'è una liberazione dal vecchio karma ecco anche rispetto a questo un'altra anticipazione che mi era stata in qualche modo non perché io sia speciale ma perché c'è una sincronicità dei significati che viene ad emergere rispetto a quello che riceviamo a livello messaggistico a livello di intuizione di percezione di connessione quelle che sono le energie effettivamente in gioco rispetto proprio alla pulizia del karma che era stata suggerita qualche giorno fa da un video in occasione del quale appunto ho fatto un piccolo video su in cui si parla dell'angelo aladia ed è un messaggio angelico eccetera nel qui ed ora di chi lo riceve un messaggio ecco appunto nel qui ed ora ricevuto ecco che il karma viene ripulito c'è l'opportunità del nuovo inizio da un punto di vista energetico vero e proprio da un punto di vista karmico c'è una pulizia dell'aura quindi l'inizio che andiamo a impostare non ha più come dire i pesi gravitazionali e le masse che ci ci attanagliavano in precedenza è come andare appunto teoreticamente a riallacciarci a quelle diciamo a quella sorta di wormhole buco di verme che viene creato in cui la massa creata dal karma diventa negativa e diventa quella sorta di materia esotica che ci permette di saltare di fare il salto quantico nella dimensione di tempo che divene il presente della nostra coscienza una dimensione tempo che non posso dire sia che non posso definire temporalmente sebbene sembri paradossale ma che si definisce energeticamente sulla quale la nostra coscienza e prima di essa il nostro subconscio e prima di esso il nostro inconscio sono già posizionati irregolati so che prendete quello che vi dico con tutta umiltà e che vi trasmetto con con apertura e a mente come dire libera non c'è bisogno di comprendere i concetti ma di percepirli già intuire o percepire diventa più importante che comprenderli in maniera tale da poterne fare una da poterli mettere in un acconto analitico il sagittario come archetipo ci riporta appunto all'arco e ci riporta quindi all'idea di ponte di connessione ci riporta al cacciatore e quindi all'idea di fuoco di visualizzazione dell'obiettivo ci riporta al centauro e quindi anche all'energia ad ariana della stella ad ar della costellazione del centauro costellazione appunto che è della quale diciamo il grande che si trova come dire nella direzione del grande attrattore il segno del sagittario che ci riallaccia al fuoco primordiale al fuoco alchemico al grande attrattore stesso e alla deformazione del tempo e c'è un rinnovamento della fede in quello che è possibile anche se non sappiamo realmente che cosa sia possibile una fede in quello che possiamo fare nella nostra vita anche se non l'abbiamo ancora mai sperimentato anche se ancora ignoto una fede nel fatto che ciò che non sappiamo ci verrà fatto presente è un affidarsi ciecamente al cane maggiore in questo caso direi alla stella sirio che mi viene riportata anche da un sogno fatto recentemente in un'atmosfera notturna quasi apocalittica sotto una volta stellata in questo diciamo in questa radura erano accorse molte persone molte genti da tutti i lati del globo ed erano accampati in queste tende tipo igloo illuminate dall'interno io le vedevo nella notte e queste tende arancioni e gialle sotto la volta celeste stellata e si aspettava questo evento astronomico dal sapore dal profumo apocalittico che mi ricordò nel momento in cui poi ripensai al sogno da sveglia questa area questa idea del giudizio come ventesimo arcano maggiore in cui ecco tutti aspettavano la stella sirio come protagonista di questo evento ovvero come la stella che avrebbe determinato le sorti e l'andamento dell'evento stesso e una voce fuori campo che dice i cani salveranno il mondo sia che venga a risuonare letteralmente per quelli che sono anche diciamo i miei interessi esistenziali oppure sia che ecco venga interpretata astronomicamente nel senso di cane maggiore cane minore che comunque ci riallacciano anche alla costellazione di orione ecco che l'idea di questo momento di questa attesa di un evento che viene a risollevare gli animi si va anche gli animi gli esseri umani e la specie umana gli restituisce legittimità su questo pianeta ecco che anche i nostri secondo e terzo chakra vengono in qualche modo portati in evidenza portati in evidenza dal colore delle tende illuminate quindi che vengono riaccesi in una notte oscura illuminata di stelle e a questo mi si aggiunge anche il collegamento che nelle culture celtiche c'era rispetto siccome queste tende mi ricordavano molto le lanterne tailandesi nel sogno in questo diciamo questi lampioncini accesi che si vedono in quei quartieri tipo Chinatown ecco che mi si si fa presente di nuovo l'arcano ventesimo del giudizio anche rispetto alla chiamata al risveglio dei defunti di ciò che è passato perché molte culture da quella celtica a quelle orientali l'uso di queste lanterne di questi lampioncini lasciati fluire sul fiume vengono a portare luce alle anime dei defunti è un segno di pacificazione tra le dimensioni terrene e ultra terrene e ultra terrene quindi c'è un accendersi di energie che è veramente significativo per i percorsi di ciascuno che fluisce avanti e si percepisce come se veramente noi stessi ci stessimo stessimo fluendo in queste esperienze in dimensioni più alte ora che così tanto karma è stato completato e rivelato e svelato e rilasciato e ora che ci viene anche rivelato e svelato quello che era karma non completato dentro di noi le sinfonie incompiute dentro noi stessi le energie di cose dentro di noi che possono attualmente nel presente essere raggruppate in un più grande seme archetipale o archetipico che sono relative al proposito della nostra anima e che questo seme archetipico diventa in qualche modo archetipo dell'archetipo nove 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 di nove archetipo dell'archetipo per la nostra anima nella nostra vita è il grande attrattore della nostra anima in questa incarnazione e dopo tanto guarire lavorare imparare lezioni finalmente ci si sente arrivare a un punto neutro dopo un punto di rottura come si dice delle onde point break delle onde dell'oceano pacifico e dopo aver sperimentato dei diciamo la sofferenza degli sentirsi impotenti e ora c'è una sorta di calma siamo nell'occhio siamo nel vuoto energetico ci sentiamo galleggiare lievita levitare e si siamo in un vuoto in cui non c'è più l'acqua sporca non c'è tutta quella schiuma che quando ci buttavamo in questo in questi canali bui sentivamo come una sorta di accumulo di alghe di materia viscida sotto a livello dei nostri chakras inferiori non c'è più contaminazione non c'è più incatenamento è stato purificato e pulito e questo questa pulizia questa pulizia del karma che assomiglia tanto da un punto di vista sonoro al suono di queste di queste campane kosci queste campane kosci che sono come dire dei cilindri di legno di bambù credo o di ciliegio mosse dal vento ed è stato una pulizia non come dire molto sofferta non priva di sofferenza stato come andare contro l'asse di rotazione terrestre queste energie sono state in qualche modo mentre no immaginando la terra che gira e la forza centripeta diretta verso il centro di questo di questo movimento è stato come un sentire estrapolare partire per la tangente diciamo scusatemi centrifuga e partire per la tangente centripeta le forze karmiche che erano state che necessitavano essere rilasciate rimosse così che possiamo passare per la fessura dell'aquila e un nuovo sistema di credenza incondizionato dal precedente e libero dal precedente viene a essere instaurato prima nelle profondità e gradualmente pronto ad emergere ed ecco che quando una volta diciamo che l'eclissi sarà terminata potremo avere l'immagine immersa di questa di questa pulizia di questo nuovo panorama e l'eclissi lunare scorsa è stata una delle più lunghe degli ultimi 580 anni mentre questa prossima eclissi solare è una delle più corte perché l'eclissi effettiva durerà un paio di minuti ora veniamo in diciamo e c'è una sinergia di queste due lunazioni in questo aspetto della pulizia quindi finalmente non nuotiamo più con lo scafandro del sommozzatore ma nuotiamo nudi magari con le pinne la coda da sirena sentiamo di poter fluire e queste eclissi hanno lavorato congiuntamente sinergicamente lavorano e lavoreranno visto che siamo oggi il 21 11 2021 un 5 5 di frequenza un 10 totalità del divino 1 come nuovo inizio visto che oggi la prossima eclissi è ancora a venire visto che l'energia della scorsa lunazione è ancora attiva è visto che l'energia dell'eclissi in generale copre un arco di circa 6 mesi più o meno senza volerci chiudere in un qualsiasi schematismo da un punto di vista temporale proprio per quanto detto anche rispetto all'energia in gioco quindi ognuno alla sua velocità teoretica si ritroverà ripulito da quelli che possono essere stati blocchi pesi precedenti rispetto al proprio karma rispetto alle lezioni da imparare rispetto ai nostri antenati e alle lezioni che abbiamo imparato e che diciamo quelle che le nostre linee di sangue sono venute fino alla nostra incarnazione ad imparare e veniamo puliti e purificati da quello che era stato accettato preso così come per scontato come se ci dovesse essere perché era sempre stato lì e ora finalmente appare fuori posto e ci chiediamo perché questo è lì e lo togliamo è tutto quello che ruota intorno alla propria identità al proprio valore personale al proprio merito personale meritevolezza quello che abbiamo che erano i nostri quello che credevamo rispetto all'amore rispetto ai denaro quello che c'era stato insegnato rispetto al lavoro o altre sfere della nostra vita quelli che erano sistemi di credenza educativi socioculturali ideologici filosofici la congiunzione col grande attrattore diviene chiave nel canalizzare l'energia dell'eclissi e del maestro sagittario grande purificatore in questo caso perché diviene la reale connessione alla sorgente quindi costantemente connettendoci col nostro terzo occhio alla sorgente risvegliamo e ripristiniamo il nostro sacro fuoco dell'autocreazione il fuoco primordiale che accende il secondo il terzo chakra e l'attesa del giudizio sotto la volta stellata attendendo lo svelarsi lo svelarsi di sirio e mercurio il sagittario si trova a 15 gradi nel sagittario quindi quasi congiunto anch'esso il grande attrattore come dicevamo e il decano del sagittario il primo decano del sagittario è un decano mercuriale quindi si trova nel suo proprio settore circolare nel suo proprio decano quindi può lavorare per filtrare le informazioni in maniera corretta sebbene ci sia diciamo la necessità di discernere appunto ciò che è vero da ciò che è falso per il coinvolgimento di Nettuno in questo in questo panorama quindi diciamo per in questo a questo proposito che mercurio è sul grande attrattore quadrato a Nettuno quindi da un lato diciamo che la verità può arrivarci da un punto di vista onirico forse più e quindi da un punto di vista quindi attraverso il nostro inconscio e subconscio più che quasi nel nostro stato cosciente di veglia dall'altro diciamo le cose non sono quello che sembrano spesso e quindi cerchiamo di essere certi dei fatti nel momento in cui prima di agire perché gli specchi l'energia degli specchi fumanti viene elevata da questa posizione di mercurio di Nettuno da questo quadrato ci sono vari strati di verità tutti i punti di vista coesistono nello stesso momento da un punto di vista fisico da un punto di vista e anche dal punto di vista del del grande attrattore quindi teniamolo presente e proprio perché tutti i punti di vista coesistono ed esistono nello stesso momento come comprendere questo e allo stesso tempo mantenere focalizzata la nostra attenzione sulla nostra visione quindi centriamo la sorgente della nostra luce con e allineiamola con la sorgente di tutto e da cui tutto proviene a cui tutto ritorna quindi focalizziamoci sulla nostra verità la luna nera lilith è a 14 gradi dei gemelli che è governato da mercurio ed oppone questa eclissi solare la luna nera lilith è il ministro della verità la rivalsa la rivincita della verità e come dire spazzerà via le menzogne dalle nostre vite la nostra intuizione viene intensificata al massimo il sole e la luna diciamo quindi la luna nuova sono in un quinconce molto stretto aurano che è a 11 gradi 38 minuti del toro l'energia elettromagnetica uraniana entra come con diciamo ritmiche esplosioni marte a 23 gradi e 40 minuti dello scorpione in quinconce molto stretto con eris che ha 23 gradi 48 minuti dell'ariete quasi esatto energia guerriera marte marte che è il guerriero individuale eris che combatte per gli individui per le qualità per l'equità con il motto nessuno escluso nessuno lasciato indietro ognuno conta e giove è in un stile molto molto quasi esatto ad eris molto vicino espande questo impegno anche da un punto di vista sociale marte a 23 gradi dello scorpione quadra giove a 25 gradi dell'acquario quindi diciamo ogni volta che marte è in un quadrato con giove c'è un senso di partire per una crociata di combattere per quello in cui si crede ed è molto positiva come energia e appunto anche intrigono marte a nettuno in pesci quindi ecco anche perché vi dicevo prima di agire quindi di partire con guerriero marte essendo mercurio quadrato a nettuno siamo ben sicuri dei fatti quindi non diamo nulla per scontato in questo senso nella pratica di questi gradi minuti planetari questa nostra diciamo questa connessione col grande attrattore l'energia ad ariana di questa di queste eclissi e quello che sono le energie in gioco ci darà un'idea di quella che sarà l'energia che poi sentiremo nuovamente in aprile il 12 specificamente aprile 2022 quando nettuno e giove saranno congiunti congiove che verrà ad espandere il simbolismo nettoniano simbolismo anch'esso come tutto nei suoi lati luce ed ombra simbolismo di nettuno che ha a che fare con la spiritualità il misticismo la trascendenza la creatività l'immaginazione la l'elevazione spirituale ma anche l'acqua in generale i liquidi in generale sia in senso figurato che non l'olio quindi l'olio come anche l'unzione come quindi energia e coscienza cristica ma anche l'olio come carburante come benzina con l'inquinamento con la tossicità con le perdite di tutti i tipi perdite d'acqua di tutti i tipi quindi nel suo lato ombra ecco perché è importante tenere alta la frequenza connettersi con la sorgente con l'energia del grande attrattore quello che era ristretto costretto fuori dalla nostra portata ora sta guadagnando momentum quasi è possibile acchiappare la coda della cometa quello che non era disponibile sta entrando nella disponibilità per noi quello che era stagnante riprende a fluire e nuove informazioni nuove comunicazioni nuove persone nuovi sogni nuove ispirazioni vengono a essere portati in evidenza dal supercarico energetico che il grande attrattore viene a aggiungere a questa già supercarica luna nuova con un'eclissi solare coinvolta e quindi viene a essere supportato il movimento e l'intreccio delle linee del tempo che sia funzionale che la nostra coscienza sebbene sfuga la nostra comprensione possa focalizzare il proprio bene superiore la realizzazione di un futuro che sia sintesi del proprio benessere della propria idea di pace della propria idea di tranquillità e di stabilità anche in prospettiva dei prossimi nodi della posizione prossima dei nodi lunari del particolare del nodo nord in toro c'è anche da dire no? singolarmente se volessimo entrare un attimo anche nel discorso magari del qui ed ora proprio della della congiunzione sulle lune in sagittario 12 gradi 21 minuti appunto c'è anche un rimandarci alle radici paleosemitiche e alle lettere connesse a queste radici e quindi ci si riallaccia alla radice della parola ebraica shalom del protosemitico salam dell'arabico shalom del salam del si del diciamo del siriaco shalom shalom ci viene a ricreare un'assonanza con quella che è il cuore del supercontinente galattico del grande attrattore radice che ci riporta in radici tutte queste che ci riportano tutte all'idea di intero integro salvo intatto illeso libero di andare via libero di andare liberamente liberato o andare liberi senza macchia derivanti da queste radici di shim lamed e mem in particolare e quindi in questo caso andiamo numericamente a coinvolgere la luna nuova sole luna uniti in sagittario e la posizione di urano in toro che è a 11 gradi 38 minuti nel segno del toro 38 più 11 38 più 2 ci riporta 40 ci riporta mem oppure 11 più 2 ci riporta 13 sempre lettera mem tredicesima lettera dell'alfabeto ebraico shin lamed mem questa radice di shalom pace pace che è anche benessere che è anche salute che è anche essere messi al sicuro finalmente essere garantiti essere rassicurati e essere pacificati che è anche la forma diciamo arcaica del diciamo la più arcaica forma conosciuta di questa radice che è il nome del dio del del crepuscolo o del vespro shalim di ugarit che è nel nord una città portuale nel nord della siria che è la moderna la takia quindi shalom aleichem aleichem shalom assalam assalam aleichem e vale aleichem assalam e scusatemi perché io non conosco l'arabo non parlo arabo anche se parlo arabo e in ogni caso lasciamoci guidare dai suoni dalle frequenze lasciamoci guidare dalla nostra energia lasciamoci guidare dalla nostra intuizione e non dimentichiamo anche il fatto che la terra è tuttora si sta muovendo nella cintura fotonica che l'ultima volta in cui questo avvenne è stato 12.000 anni fa o tra 10-12.000 anni fa diciamo epoca della costruzione del famoso tempio di Gobekli Tepe tempio del quale si sta parlando molto recentemente che ha aiutato diciamo è stato uno delle scoperte archeologiche che ha ridefinito quelle che sono diciamo le strutture etnografiche storiche dell'umanità vi invito a ecco se volete l'altra porta da aprire può essere quella di questo tempio di Gobekli Tepe una porta meravigliosa e pesante sulla storia sulla memoria degli esseri umani e ci sono queste appunto questa energia fotonica che viene che entra ad onde, ad ondate come caratteristica anche dell'energia uraniana quindi i picchi della risonanza di Schumann sono dei picchi nello spettro delle frequenze più basse del campo elettromagnetico terrestre generate da tempeste elettromagnetiche da fulmini che scaricano nella cavità formata dalla superficie della Terra e diciamo nella cavità formata tra la superficie della Terra e la ionosfera ci riportano alle forme del wormhole anche in questo caso e queste esplosioni di energia creano delle onde elettromagnetiche che iniziano a ruotare intorno alla Terra che sono catturate, che rimangono prese nella rete tra la Terra, tra la superficie terrestre e circa 60 miglia nella ionosfera sono ondate di luce ondate di aggiornamenti per noi da un punto di vista anche cellulare da un punto di vista di DNA da un punto di vista evolutivo il nostro corpo impara gradualmente ecco che anche la perfezione del piano divino in questo arrivano ad ondate non arrivano tutti insieme a travolgerci arrivano e poi ci danno il tempo di integrare arrivano e ci danno il tempo di integrarle e il nostro corpo impara il nostro corpo quindi il nostro veicolo impara veicolo di luce nostra Merkaba ideale impara a trattenerle immagazzinarle impara a gestirle il nostro corpo come macchina perfetta nella sinergia di tutti i suoi elementi quindi siamo in un processo che ci porta sempre di più in connessione con i nostri corpi di luce a entrare sempre di più nei nostri corpi di luce la luce che cambia l'umanità in un unico corpo d'amore quindi questa coscienza galattica che ai livelli superiori possiamo definire cristica prevede l'installazione di extra energia fotonica anche e quindi il corpo veicolo è come un carro un supercar la supercar dei filmini di quando tornavo da scuola da piccolina che davano all'ora di pranzo supercar come con la macchina Michael Knight il cavaliere Michele e la sua macchina Kit che ci porta in una con una qualità luminosa dove dobbiamo essere e anche a livello fisico avremo diciamo questo questa idea di non so come perché a volte potremo sentirci stanchi disfiniti ma il nostro corpo ci porta esattamente dove dobbiamo essere nella perfetta sincronicità l'elemento della sincronicità diventa fondamentale in questo in questo processo le sincronicità sono un segno di di aumento dell'elevazione di frequenza dell'aumento della nostra frequenza più le rileviamo e più in qualche modo abbiamo come una sorta di termometro che ci permette di come dire misurare la nostra frequenza e scusate nel senso scusate anche se mi sono dilungata forse troppo e voglio andare a aggiungere pochissimo nel senso forse niente lascio la sincronicità le carte che ho qui mischiate questi questi quattro mazzi che ho scelto per questa lunazione scegliere al caso i mazzi sono stati da me mischiati in vorrei ecco lasciare alla sincronicità i messaggi di chiusura di questo video sulle crisi solare totale nel segno del sagittario come se ci fosse qualcosa che mi rimanga da dire e non so bene cosa ma ovviamente credo per ora di aver detto abbastanza la croce andina l'idea del portale l'idea della della croce di medicina di guarigione il passaggio metafisico oltre la materia e come appare in questa carta è come un sigillo appiccicato ad un muro e uno si chiede come passare oltre quel muro ci riallaccia anche all'idea detto citato prima del muro di antria nella sempre nella nella serie di ammassi di costellazioni citate rispetto al grande attrattore l'illusione della materia la croce andina che si che è un passaggio oltre il visibile specchio fumante di di una di una materia di un di una superficie invalicabile che è possibile oltrepassare che è legata alla nostra memoria ancestrale che è legata alla sorgente che si trova oltre quello che possiamo percepire con i nostri sensi fisici le otto direzioni che vengono portate all'attenzione quattro più quattro quattro direzioni e quattro elementi quattro direzioni e quattro arcangeli otto punte come nella nel centro della ruota zodiacale qualora considerassimo anche i tre decani i tre pianeti decani di ogni segno zodiacale ovvero di ognuno dei dodici settori circolari diviso a sua volta per altri tre quindi i 30 gradi divisi 15 per settori di i 45 gradi divisi per settori di 15 gradi ciascuno la danza dei fantasmi l'idea nettoniana 222 sincronicità numerica che viene portata all'attenzione il lavoro di pulizia che viene fatto questa danza non ha più una connotazione fisica diventa una danza eterica di energie eteriche pulizia dal nostro passato linguaggi codici di luce che vengono installati 222 che vengono portati alla nostra attenzione questa sequenza numerica sincronizzata la donna selvaggia 62 che si ripete per quattro volte ci porta un otto unito a un 6 ci conduce a un 14 un invito anche all'umiltà un invito a scavare nel nostro inconscio mi riallaccia anche a un romanzo che donne che corrono con i lupi questa donna selvaggia in questo momento e mi riallaccia alla paladina della verità che è energia contenuta nell'archetipo della luna nera lilith nella sincronicità di questo di queste sirene bisogno di riestrarre estrapolare da noi la nostra autentica natura che può essere stata soppressa inconsciamente energia generale lo specchio fumante la verità che si eleva sulle illusioni sulle nebbie nettoniane delle illusioni la coscienza superiore che si eleva su quella inferiore il sé superiore che si eleva su quello inferiore la connessione con il divino con la sorgente la pace buddica uno stato pacifico privo di scosse il dissiparsi dei fantasmi delle nebbie l'undici riducibile nuovamente a un 2 l'undici che viene portato in evidenza da questo 47 riducibile a un 11 riducibile a un 2 un 2 che si ripete a questo punto cinque volte ci riporta un 10 l'energia del creatore la totalità del divino un 2 che si ripete a un 6 che si ripete a un 6 che rimane fuori un 10 più 6 che diviene 16 ci riporta alla nostra visione l'idea della nostra visione del nostro nervo ottico anche il senso fisica il senso fisico della vista e il senso di una visione spirituale il nostro terzo occhio 16 riducibile a un 7 spada dell'intelletto e della verità principio femminile che governa la lettera settima dell'alfabeto ebraico zain lettera collegata all'arcano settimo ovvero il carro questo super carro citato come veicolo in questo caso il nostro corpo ecco l'attenzione curiamo il nostro corpo in questa fase di passaggio perché è soggetto in questo intensificarsi delle energie a grosso stress quindi anche cellularmente quindi cerchiamo di trovare il giusto momento il giusto momento per ricaricarci ecco che la carta subito sotto è l'energia generale degli specchi fumanti è quella del rimanere centrati in pace trovare lo spazio per ricaricarsi questa idea diciamo di questo di questo portale questo tempio che mi riporta ancora nuovamente a gobekli tepe ma che ci riporta anche a quanto detto del dio shalim di ugarit città del nord nord della siria città portuale del nord della siria e quindi ha un'idea di pace nella radice shin lamed mem 5 più 277 che si ripete nell'energia successiva 7 più 714 di nuovo porta l'attenzione al nostro inconscio è un'idea di umiltà vediamo che cosa da dire a questo mazzo non il mazzo in sé naturalmente ma la perfezione del piano divino della sincronicità della nostra connessione con la sorgente che viene ad aggiungere messaggi di approfondimento a quanto detto autoriflessione 17 il numero in questo caso numero che secondo allendi è il ponte di unificazione tra materiale e spirituale 17 che è parola divina parola dei profeti 17 che sono i minuti che separano l'estinzione dai dinosauri dei dinosauri dalla comparsa dell'uomo sulla sul pianeta terra se venisse condensata la storia del nostro pianeta in 24 ore l'autoriflessione lo specchio dagli specchi fumanti che abbiamo visto a la nostra immagine riflessa e quindi non solo un riflettere in se stessi in un senso introspettivo ma anche la nostra immagine quello che è l'illusione della nostra immagine quello che potrebbe rappresentare in termini di illusione e il 17 quello che è quindi anche la differenza tra il vero sé e la sua immagine nel 17 che unisce si unisce a un integrale ridotto in un integrale ridotto di otto e ci porta un'idea di bilanciamento e di giustizia nonché di forza nella scuola inglese che ci porta un'idea di infinito scorrere infinita trasformazione di perfetto equilibrio di eternità di infinito amore di infinito amore e questa riflessione in questa carta che ci viene mostrata veniamo veniamo mostrati a noi stessi immersi nell'acqua ed è una triade è un riflesso doppio anzi sono quattro per le quattro direzioni in questo specchio quattro figure due dentro e due fuori dall'acqua che si danno la mano che si intrecciano le parti del sé che vengono riallacciate parti sommerse che vengono riportate alla nostra coscienza attraverso il lavoro di introspezione l'azione un'azione sia basata su un principio di riflessione e di auto riflessione 17 15 8 e 6 14 nuovamente il 14 si ripete c'è questa sincronicità del 14 che si ripete e nel ripetersi del 14 potremmo anche volendo andare a aggiungere un angelo che è quello che è veulia il quarantatresimo angelo del kadosh se volete cercare diciamo quelle che sono i doni dispensati dall'angelo veulia è un angelo che in qual comunque dispensa sicuramente il dono della forza il numero 14 in questo caso si ripete per tre volte quindi avremo 28 42 le generazioni da abramo a cristo potremmo interpretarlo come un invito all'elevazione della coscienza un invito costante un'azione che sia basata sull'auto riflessione per portarci a un'elevazione per portare all'elevazione della nostra frequenza e quindi un'azione creativa l'angelo veulia come detto è l'angelo 43 nato dei nati tra il 24 e il 28 di ottobre appartiene al coro solare degli angeli virtù amministra l'energia di giove il suo elemento è l'acqua e a domicilio ai primi cinque gradi del segno dello scorpione il suo nome significa redominatore libero il potere della mente sulla materia quello dell'anima sull'ego e quello del mondo spirituale sul mondo fisico senza rinunciare al mondo fisico elimino il suo controllo su di me la mia autonomia si espande da me emergono le forze per riappropriarmi del mio destino pazienza 36 riducibile a un 9 ci lascia un 5 come integrare ridotto la somma di tutto questo abbiamo 555 nel ripetersi dei 3 14 grande trasformazione grande cambiamento energia generale in questo mazzo pazienza mentre ci abbiamo questo salto quantico verso una sovranità acquisita 41 nuovo ripetersi del 5 555 per 4 20 il benedetto nella verità lettera ventesima dell'alfabeto ebraico lettera resh la testa del benedetto nella verità abbassiamo la testa alla verità è un senso di sovranità verso il quale stiamo andando maggiore padronanza della nostra verità e della nostra vita in relazione adesso viene di nuovo il 20 portato in evidenza da questo da questa energia che è quasi natalizia che è una ragione per festeggiare stelle appese a questo filo che mettiamo ad asciugare dopo averle bagnate di lacrime di gioia o di o di dolore di emozione stelle che sono a rappresentare i nostri sogni e la nostra connessione col cielo stesso e portiamo frutto nel grembo di questo albero il 12 e ci riporta ai gradi della luna nuova in sagittario il 37 che ci riporta all'esagono contenuto nella mercava da un punto di vista gematrico numero legato a cristo e il tono dell'oracolo energia di doni in arrivo per noi frutti doni abbondanza energia generale sentire il mondo empatizzare col mondo compassione compatire il 13 lettera mem lettera mem dell'alfabeto ebraico arcano senza nome detto della morte arcano di trasformazione sentire il mondo empatizzare ma anche la compassione viene suggerita dalla precedente immagine di di putta la magia della terra subito dopo quel numero 1 13 più 1 nuovamente un 14 a rafforzare l'energia del 5 5 5 5 5 5 siamo a un 30 lettera lamed si riporta la radice appena citata prima scena mad man andiamo all'ultimo mazzo al quale chiederò solo solo una carta e l'energia generale il druido mantieni la tua coscienza a livello spaziale e fai spazio e rispetta il tuo spazio mantieni uno spazio sacro mantieni i tuoi confini rispetto a uno spazio che è solo tuo di nuovo il pettirosso che si affaccia è bellissima l'immagine di questo pettirosso con le foglie autunnali che richiamano il suo petto rossiccio arancione vicino alla mia rosa bianca e lo sciamano come energia generale credi nelle forze superiori truido e sciamano chi se non il truido può meglio rappresentare l'applicazione di questa fede nelle forze superiori lo sciamano che è un'incarnazione di tempo spazio ed eternità nella comprensione di quelli che sono i meccanismi di recezione dall'alto delle energie quella che è la connessione dell'universo contenuto dentro di noi nei simboli e nelle frequenze che essi portano con sé nella conoscenza ancestrale cosmica galattica che il simbolo e l'archetipo portano in sé nella ruota di medicina che viene rappresentata a partire dal tamburo del suo cuore nella civetta che rappresenta appunto una comprensione superiore che ci riporta anche un'illuminazione raggiunta in notturna come questo druido ci viene a ricollegare all'arcano nove dell'eremita l'arcano maggiore dell'eremita energia del segno della vergine e questo in questo caso a guidare è un cristallo il cristallo di rocca un cristallo di purificazione un cristallo che è la purezza che ci fa guida nella notte è un andare a mente pura credi e prospera sotto lo sciamano lo spirito del cervo così simile tanto che lo sciamano ne sembra quasi l'incarnazione e il sacerdote sotto il cervo l'alto sacerdote ierofante intendi intenzione e creazione intenzione manifestazione diritto allo scopo come nella posizione dell'arciere in questo caso l'arco è il falco messaggero superiore ci riallaccia il pianeta mercurio e quella donna selvaggia che vedevamo prima qui sotto she wolf libera la natura tua interiore selvaggia e quindi a questo punto vi lascio con un messaggio bibliomantico da questo libro donne che corrono coi lupi e apriamolo caso e chiudiamo il messaggio fuoco sul fiume soltanto se prendi una laurea il tuo lavoro avrà un senso soltanto se avrai le lodi della regina soltanto se riceverai quel premio soltanto se ti pubblicheranno su quella rivista soltanto se soltanto se con tutti quei se è come riempirsi l'anima di avanzi un conto è cibarsi di vecchie cose qualsiasi un altro essere veramente nutrite per lo più la logica del complesso estremamente difettosa anche se cercherà di convincervi del contrario uno dei più grossi problemi del complesso creativo è l'accusa che qualunque cosa facciate non funzionerà perché non pensate in modo logico non siete logiche quel che avete fatto non è logico ed è pertanto destinato al fallimento innanzitutto le prime fasi della creazione non sono logiche né tali devono essere e se il complesso riesce a fermarvi così vi tiene in pugno e ditegli di starsene seduto tranquillo o di restare alla larga finché vi garpa rammentate che se dovesse essere tutto logico al mondo gli uomini cavalcherebbero all'amazzone con questo messaggio vi saluto e vi ringrazio buona giornata grazie della pazienza della visione perché è riuscito arrivare fino a questo punto so che queste durate così diciamo no questo mio essere senza tempo in qualche modo no è anti come dire è controproducente rispetto che so a quella che è la logica del mercato ma appunto ci basiamo su sulla logica del nostro cuore grazie ciao grazie a tutti